Cara anima bella, oggi partiamo con i messaggi della tua nuova felicità video e alternerò un po' video e un po' scritti, dipende come mi diverte in quel momento Allora, che cosa sono i messaggi della nuova felicità? E precisamente della tua nuova felicità Sono messaggi che io ricevo al mattino Ora, potrei scrivere, firmato Archangel Michael, Archangel Gabriel, Vergine Maria, Gesù Allora, quello che ti chiedo, quello che ti dico Tu pensa a cosa vuoi, possono arrivare dai tuoi angeli Possono arrivare dai tuoi spiriti guida Possono arrivare dai maestri, possono arrivare da Dio Può arrivare dalla tua guida divina Può arrivare dalla luce Pensalo e credilo come vuoi In ogni caso, se tu stai leggendo quel messaggio Se tu stai vedendo quel messaggio Un motivo c'è Quindi ascoltalo, perché? Perché è un motivo che riguarda la tua anima Allora, oggi il messaggio qual è della tua nuova felicità? È Non devi piacere a nessuno Sì responsabile solo della tua felicità Perché è questo che aiuterà anche gli altri a essere felici Questo non significa che tu non devi aiutare gli altri a essere felici Significa solo che ognuno è responsabile della propria felicità Anzi, la tua felicità deriva dal fatto proprio di condividerla Di viverla E quindi di andare a portare quel dono A tutte quelle persone che sono pronte a riceverlo Affinché gli ricordi a quelle persone Che anche loro sono degni Meritano e possono essere felici Ecco, quindi occupati solo ed esclusivamente E quindi sii responsabile della tua nuova felicità Sapendo che tu non devi piacere a nessuno E questa felicità in un modo generoso Con V V V Ok? Ciao Ciao Ciao